Va giù la curva dei contagi da coronavirus in Puglia. La conferma di un netto calo dei malati arriva dall'ultimo bollettino regionale che segnala nella giornata di oggi, lunedì 20 aprile, 38 nuovi casi di positività ai quali si aggiungono i 22 tamponi non ancora attribuiti alla relativa provincia di provenienza. Sale così a 3.567 il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Provincia più colpita è quella di Bari dove anche oggi sono stati rilevati altri 28 test positivi per un totale di 1.138. Segue sempre Foggia con 868 casi, 16 più di ieri e Brindisi che raggiunge quota 500 infetti. 452 ne conta la provincia di Lecce con un nuovo caso rilevato, resta fermo a 335 il dato della BAT dove anche oggi per il secondo giorno consecutivo non si rilevano ulteriori contagi ed infine la provincia di Taranto con 243 infetti. Peggiora il bilancio delle vittime con altri 10 morti nelle ultime 24 ore, 3 nel territorio di Bari, 4 nel Foggiano ed 1 rispettivamente nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Tra gli ultimi pazienti deceduti c'è anche un medico di Altamura, Antonio Lerose, in servizio nell'ospedale Perinei. L'uomo era ricoverato da circa un mese al miulli di Acquaviva delle Fonti dove è morto questa mattina. Si tratta del primo medico del barese a perdere la vita per cause legate al virus ed il terzo in Puglia. Sono sempre 650 le persone attualmente ricoverate di cui 66 in terapia intensiva mentre altri 2160 positivi sono sottoposti ad isolamento domiciliare. Si allunga infine la lista dei guariti, sono infatti 431 i pazienti dimessi dagli ospedali pugliesi o che hanno definitivamente vinto la loro battaglia contro il coronavirus.